E' decisamente il segno X a dominare gli ultimi precedenti allo stadio adriatico Cornacchia tra Pescara e Virtus Lanciano. In particolare gli ultimi due giocati in Serie B hanno prodotto due pareggi combattuti ma in partite che per una serie di motivi non avevano un peso specifico per la classifica simile alla partita di dopodomani. E' finita 2-2 la gara del 13 maggio 2014 allorquando il Pescara di Cosmi stava chiudendo in centro classifica una stagione deludente mentre il Lanciano di Marco Baroni era in piena corsa per la disputa di quei playoff sfumati di un Sofia l'ultima giornata. Una gara segnata dal maltempo e chiusa dal 2-2 di Federico Amenta dopo che il Pescara con l'euro goal di Rossi e il rigore di Maniero avevano ribaltato l'iniziale svantaggio. In quel Pescara in campo anche l'attuale Virtusino salviato. Qualche mese dopo, 28 novembre 2014, il derby d'andata della successiva stagione, sempre giocato sotto i riflettori. La Virtus di D'Aversa, partita bene in campionato e all'interno della zona playoff, si fa preferire sul Pescara balbettante dell'ex Baroni. Passa in vantaggio con la zampata di Monachello ma viene beffata l'ultima azione dalla sassata di Federico Melchiorri che evita il tonfo e biancazzurri e una grossa onta al tecnico fiorentino. Scorrendo l'almanacco arrivano altri pareggi. Nell'ultimo confronto in Lega Pro nel gennaio 2010, la partita dell'Adriatico Cornacchia, chiusasi senza gol, resta negli annali soprattutto perché segnò il debutto sulla panchina biancazzurra di Eusebio Di Francesco, ex di quella partita, chiamato a sostituire l'esonerato Cucureddu. Brutta partita, condita da polemiche per l'annullamento di un gol al biancazzurro Zizzari per un millimetrico fuorigioco. Stesso risultato nella stagione precedente, quando la partita si giocò sul neutro di Vasto per via dei lavori di ammodernamento dell'Adriatico in vista dei giochi del Mediterraneo. L'ultima vittoria biancazzurra risale dalla C1 2007-2008. 4 maggio 2008, ultima giornata di campionato comunque amara per entrambe. Il Pescara di Lerda dilaga con Cardinale, Sansovini due volte e Dettori, ma resta escluso per un solo punto dai play-off. Il Lanciano di Moriero, a causa di una forte penalizzazione, finisce ai play-out dove retrocederà nel doppio confronto con la Juve Stabia. Senza penalizzazione ci sarebbe stata una salvezza tranquilla, segnali sinistri e inquietanti per i tifosi rossoneri che potrebbero vedere alcune assoranze con l'attuale situazione. Per scongiurarla, la Virtus dovrà fare quello che non è mai finora accaduto, vincere a Pescara dove il bilancio è di 7 vittorie biancazzurre e 6 pareggi. Ma la squadra di Oddo, a caccia della terza posizione, non sarà certo d'accordo.